Gli ACP di Agrigento, l'Istituto Autonomo Case Popolari con il commissario Domenico Armenio ha varato un nuovo progetto di riorganizzazione della dotazione organica. La ristrutturazione è stata elaborata sulla base di direttiva impartita dal commissario dell'Istituto e il nuovo progetto è stato predisposto tenendo conto sia degli obiettivi da perseguire che degli interventi strutturali e funzionali basati essenzialmente sulla razionalizzazione e contenimento della spesa, la cosiddetta spending review. Le azioni strutturali hanno portato alla drastica soluzione di ridurre i posti dirigenziali in dotazione organica alla riduzione del numero complessivo delle posizioni organizzative alla riduzione dei posti di categoria D con il mantenimento del numero complessivo di personale in 76 unità attualmente i dipendenti dell'ACP agrigentino sono 80. La dotazione attuale del personale impiegato e gli ACP è di 9 dirigenti di 36 con categoria D 12 di categoria C, 15 di categoria B e 4 di categoria A. Il personale in servizio con contratti a tempo indeterminato è di 36 unità, altri 41 sono in servizio a tempo determinato e part time. Infine altre 3 persone hanno un contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato. La nuova dotazione organica entrata in vigore all'inizio dell'anno non prevede più nuove strutture direttive, bensì 4 e le 15 aree di posizione organizzative si riducono a 7. Ecco come sarà suddiviso il personale. La direzione generale avrà 19 posti in dotazione organica con 8 posti di categoria B coperti e 11 vacanti di categoria A e B. Il servizio tecnico ne avrà 21 di cui 11 categoria A e 10 categoria A e B. Il servizio finanziario ne avrà 12, 6 più 6. Il servizio gestionale amministrativo ne avrà 24, 11 più 13. Con questa operazione di chirurgia contabile gli ACP risparmierà 470.000 euro. Mentre prima la spesa per il personale era di 3.321.000 euro, adesso sarà di 2.850.000 euro con una riduzione percentuale del 14,43%.